Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft con Dade Sii Eeeh C'è già sta fatta scherz Oddio non so parlare Dade sera La sera non so parlare Comunque siamo negli Skywars Un bel ritorno nell'Inglese Craft ovviamente link in descrizione Non è un link ma è un NIP E quindi 3, 2, 1, giù Siamo nella solita Oh siamo accanto siamo accanto Addirittura Questa mappa che cazzo è ma l'abbiamo mai fatta? Si è la clay metano Clay? Ottimo direi E quindi questa si vince o si perde Insanamente tradisco di nuovo In onore dei vecchi tempi vediamo se ho i big money Money by special people Io che ho 40 Dove si leggono i soldi? In slash money Oh Ma che cazzo Ma che cazzo ho fatto? Ma Va bene Ma io non puoi shoppare No ho shoppato ma Tipo ne ho presa una Ma ne ho presa una Quattro Cioè due Ma Non lo so se è un bug Se l'ho veramente Se l'ho comprato le volte 5 4 8 25 6 1000 Non mi scende Ok Comunque Oddio se ci cadevo dall'inizio Oddio non ho un'arma Io ho trovato roba più o meno schifosa Intanto gli zanzari mi stanno ancora Ok ho un'arma Oddio oddio Invece io ho trovato l'arma più OP del gioco No non è vero È soltanto una spalla in diamante Però Ci può stare Allora Vediamo Sono anche ben messo È di corazza Beh anch'io si Che poi penso Si dica armatura Non corazza Però sono dettagli Oh aspetta che butto giù un tizio Allora No aspetta sega Guarda No no Spero di non aver fatto un fail Ah no ok Dai Oh bello bello Come mi piace killare così ragazzi Come mi piace fare il lezzino proprio Mi sono tippato da lui con l'enderpearl No ma non ti fai schifo Dentro Non molto Perché a me piace shoppare come le merde Soprattutto perché Perché sono soldi guadagnati questi ragazzi Proprio Allora vediamo Oh no Quello ha scritto Fdp Forse field Hacker Merda Lezzino Cancro Ma come cazzo scrive Non lo so Se è il cancro pure lui però Aspetta Io non so di andare Se io vado qui Quello lì mi uccide male Quindi è un po' un problema Come ti faccio team a casa Non sto facendo veramente team Se non ti ci arrivo dall'altra parte della mappa Non lo so io sono al centro Vabbè Io ci provo Dai 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 Ce l'ho fatta Dai cadi Muori Ma che cazzo Ma che cazzo dov'è Oh 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 Metano ero io scusa Non pensavo che stessi andando là Non pensavo che stessi andando là Ma sei lezzo Comunque non so se mi sono fatto la doppia O l'hai ucciso te Ma non importa Oddio No Non ho trapassato L'hai ucciso a quello Ti serve qualcosa Dale io ho due spari in diamanti Tipo Sono rimasti anche in tre Io te e quel fuoco là Aspetta aspetta I soldi si prendevano No ok no Non voglio shoppare ancora Sennò mi sento troppo lezzo Lezzino Lezzino Shoppare due volte nella solita partita È da schifosi C'è da dirlo Infatti sì Però Non potevano darmi Oh cazzo Aspetta qua l'arco si trova o no Che non me lo ricordo mica O si shoppava e basta Si shoppava e basta Oppure tu la facevi rompendo le Ah ma era sulla mappa Quella lì che ne faceva Sì Ma mi sa che l'hanno pure levata Eh infatti non si è più Tipo più vista Comunque da te Non c'è da un'altra Cazzo dici Tra noi due No tra quello lì Ma chi è quello vivo Che ha scritto No Penso che sì Oddio ma quello lì c'è tipo 1000 money Big money cash Aspetta ma se faccio Si è buttato di sotto Sì Io sparo random Prima o poi ti beccherò Oh Incredibile parkourer Oddio Oddio Siamo rimasti No e te Oddio No 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 Oddio che cazzo fai Non mi buttare giù Fai l'uomo Vieni qui Vieni qui strunzo Ok sto venendo Ti spacco il culo Te lo spacco Te lo rompo Eh Sei un lezzino Eh sì Sono lezzo Tanto prima o poi ti dirai la roba Io qui c'ho lo spawn Vedano non dimentiarlo Lo spawn di cosa Di Cristi Sì Lo spawn di Gesù Ma Gesù non spuna sempre Spuna o no Spuna ogni tre giorni Dale dale Quanto mi farai schifo Eh dale Quanto mi fai schifo Dai vieni da me Vieni da me brutto schifoso Sto arrivando Vieni Non aspetto altro Dai vieni qui Vieni Vieni Dai muorici Muorici Mi stanno quanti curi hai Troppi Ho vinto Porca puttana Date di merda Date di merda Ma che cazzo fai Spengili citto ogni tanto Mi fai schifo Mi fai schifo dale No seriamente Stavi cittando E l'ho messo meglio di te Sai go Yeah Bannato Sembra che mi abbia fatto Shoppare ancora A quanto pare Quanti cazzo di soldi ho Come si vede Ma se io scrivo tipo di Mi dici quanti soldi ho 84 Cazzo sono ricco Sono ricco 84 monete Io ho 0 guarda Ma io pensavo Reverne tipo Pochissime Non pensavo Reverne così Tante Metano ma 84 Non c'ho più un cazzo Eh ci prendi L'ender pearl Costano 50 L'ender pearl Costano 50 Ne potevo prendere Ok prendile L'ho già presi Ammazza questo Ok Ti facevo un culo grosso Come una casa Se le prendevo anche prima E sapevo di avere i soldi Madonna Proprio Era un omitiamo Draus Ma draus E' un fraccio Allora Vedo che sono Piano di roba Interessante Wow Date Vincerò sicuramente Perché Perché Infatti dal tizio Lì Metano Sì infatti C'è l'unico modo Che ho in questo momento Per vincere E tipparmile a qualcuno E sperare di ararlo Perché tipo Lo piglio di sorpresa Agia Mo rompono Metano Mo rompono Dai Muorici Fox Muorici 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 Mi hanno rotto Vabbè Mi sono Sono la clay Dietro Incredibile Uno mi chiede Se mi può fare Uno screen Ma what Ragazzi Cosa cazzo Dici Quando mi hai rubato Lo screen Ah tu dici Perché Ma allora Qui si va A livelli di intelligenza Che io di sera Non riesco a capire Dale Ma le macro Funzionano anche Su minecraft Sì Che funzionano Anche su minecraft Ma Dale La macro Prescrivere Funzionerà Ovunque ci sia Una chat Allora Vediamo Quanta roba Molto carina Una pala di ferro Ah io prima ho trovato Merda totale A minora c'è Roba più o meno Umana Una pala d'oro Wow Ci farei molto Mi dicono Allora Io qua posiziono Un po' di inventario A modo E poi vado a fare i culi Proprio Credo che lancerò Quello giù Che ha l'anti knockback No 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 Non lo fare Non lo fare Sei uno stronzo Se mi uccidi Oh Meno male Stifoso Sei già morto No però L'anti knockback No tranquillo Tranquillo Ci penso io Dov'è Mi sto andando proprio adesso No 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 Non c'è andare Ma che sei Oh merda Eh vabbè Io cerco di Piglianculare quello là Ma dove cazzo l'ho tirata Ah l'ho tirata bene No ma che cazzo No ragazzi Cosa mi tocca No 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 Mi sono Adesso sono caduto Aiuto Plox Come mi sei caduto In che senso No 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 Aspetta Sto risalendo l'acqua Sto risalendo Se nessuno me la chiude Forse sono me Metano sono morto Perché mai un orso ha pure la chi laura no perché citate brutte merdi peggio di emerald ma che cazzo ricado da di non so salire l'acqua e ma di grado distrutto no 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 come cazzo faccio ma che cazzo non mi uccide sono morto mi sa che male vado lezzo lezzo ok ragazzi questo video finisce qui perché dade usai cheat io gli ho detto io chiedo agli admin non sto scherzando dopo di fargli un controllo perché qui la storia mi puzza un po perché io prima ero piazzato meglio inizio da aprire skype aspetta no dade ero piazzato meglio di te e tu mi hai ucciso non è normale tu usi cheat c'è una cosa che si chiama meladoro e se salti vedi più danno e ce l'avevo anche io vabbè ma comunque dade abusa di bug a questo punto perché la meladoro è un bug quindi comunque trovate tutta l'escrizione dade ci trovate pure lui proprio la skin di dad non è un cazzo vero vabbè comunque trovate il suo canale in caso non vi fosse iscritti ma scrivetevi perché è bello ed è ciao a tutti ciao fiocco che fiocco la melobot